Allora, ieri abbiamo provato almeno in un caso particolare, ho la dimostrazione completa la prima giovedì, la formula di derivazione del prodotto di composizione. Abbiamo una funzione f da i a valori inerve, poi una funzione g da i a valori inerve, poi abbiamo che esiste il primo di spon zero, spon zero è un punto di e, poi abbiamo che f di spon zero appartiene a t, ed esiste il primo di spon zero nel punto di f di spon zero. Allora, noi sappiamo che g composto a f derivato di f di spon zero è uguale a g primo di f di spon zero per f di spon zero. Questa si chiama regola della catena e adesso vedremo molti esercizi. Facciamo qualche esempio. Cominciamo un primo esempio. Supponiamo di dover derivare la funzione f di x uguale sen quadro di x. Allora, noi possiamo operare in due modi qui, possiamo sia sfruttare la regola di derivazione del prodotto, che è il primo di x uguale seno per seno, allora faccio la derivata di seno che è coseno di x per l'altra funzione, seno di x non derivata, più la derivata dell'altra funzione che è coseno di x per seno di x non derivata, quindi due volte seno di x. però possiamo anche applicare la regola di derivazione della funzione composta, perché io posso avere la funzione che è x associo a seno di x, io lo chiamo y e poi la funzione che è y associo a y quadro, y quadro sarà sen quadro di x. quindi questa è la funzione g e questa è la funzione f. g di f di x mi dà 6 quadro di x. Allora come si fa la derivata di g composto f? Allora scusate, non chiamiamola f, perché questa è la funzione totale, chiamiamola f. Come si fa la derivata di g composto f? Devo fare la derivata di g, ma la derivata di y quadro chi è? Sto derivando rispetto alla sua variabile, cioè y, quindi è 2y. ma questa deve essere calcolata in seno di x, quindi è 2 seno di x per la derivata della funzione f che è la funzione seno di x rispetto a x. E come vedete viene la stessa cosa. Quindi questo primo esempio serve per far vedere il caso in cui possiamo controllare il risultato mediante un'altra regola di relazione, cioè la regola di relazione del problema. Andiamo a fare un altro esempio. Allora andiamo a fare per esempio logaritmo di 1 più x quadro. No, facciamo l'esponenziale di 1 più x quadro. Il logaritmo ancora non conosciamo la simulazione. Questa è la mia funzione f di x. Allora, f di x è la composta della funzione che a x associa 1 più x quadro. Questa la chiamo fi, poi a y. C di y è uguale a esponenziale di 1. siccome x è uguale a 1 più x quadro, viene l'esponenziale di 1 più x quadro. Quindi se io devo fare la derivata di questa funzione f, come si fa? Devo fare la derivata dell'esponenziale, ma la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale stessa. quindi viene l'esponenziale, cioè la derivata di e alla y, e alla y rispetto a y. Dove la devo calcolare? In 1 più x quadro. Ricordate? Devo calcolare la derivata della funzione esterna in f, per la derivata di 1 più x quadro rispetto a x. E' chiaro come funziona questo meccanismo? Facciamo un esempio 3. Andiamo a fare per esempio tangente di e alla x. Questa la chiamo f di x. Stavolta posso provare a farlo direttamente senza scrivere tutto lo schemino. f' di x è uguale a 1 su cos'è in quadro di e alla x per e alla x. La derivata della tangente è 1 su cos'è in quadro nel suo argomento che è la x. per la derivata di e alla x. Che fa è la x. Ok? Allora, dato questo... Vabbè, adesso potete sbizzarirvi per fare gli esercizi più vari. ora, vogliamo però usare questa formula anche per aiutarci a calcolare la derivata delle funzioni immerse. Allora, come funziona la funzione immersa? Allora, se vi ricordate ho la funzione f che da y mi fa passare a f di x che se volete chiamo y e poi la funzione immersa f a meno 1 di y f a meno 1 di y se ne importi in f a meno 1 di y ovviamente la funzione f e f a meno 1 devono essere più univoche. O. Per semplificare, poi quando faremo le dimostrazioni metteremo le opportune ipotesi supponiamo che tutte e due le funzioni siano derivabili sia la f che la f a meno Allora, che cosa deve succedere? Beh, innanzitutto poi c'è scritto che f a meno 1 di f di x di f se io vado prima avanti poi dormo indietro chi mi viene? No, perché f di x x f di x a più f a meno 1 chi mi viene? Ma x quindi se vado a fare il prodotto di composizione della funzione immersa con la f mi viene x quindi mi viene f meno 1 di f di x è la funzione cosiddetta identica cioè che a x associa a x Ora se io devo derivare la funzione x quant'è la derivata? 1 1 o no? Allora, deriviamo tutti e due i membri Allora qua c'è scritto che se io vado a calcolare la derivata ci metto meno 1 perché poi la derivata la indico col primo quindi non voglio che il meno 1 si diciamo confonda con il primo la derivata della funzione immersa calcolata nel suo argomento cioè in f di x per f primo di x questa è la regola di direzione della funzione composta deve essere uguale alla derivata di x cioè a 1 Allora, cosa abbiamo scoperto? se io l'argomento di f meno 1 ci metto una sua variabile indipendente un suo nome lo chiamo t o y o l'ho chiamato sopra la derivata di f meno 1 calcolata in y a che cosa è uguale? è uguale a 1 fratto f primo calcolata in x ma se questa è y che è x è f alla meno 1 quindi la potete scrivere così cioè questa è uguale a 1 fratto f primo di x oppure potete scriverla così questa è uguale a 1 fratto f primo di x in particolare cosa segue da queste uguaglianze che abbiamo appena trovato? segue che se una funzione è invertibile e se sono derivabili tutte e due le funzioni sia la f che la f a meno 1 può darsi può darsi che una delle due derivate faccia 0 da quante parte? io direi proprio di no perché quando andiamo a fare questo prodotto il prodotto deve fare 1 se uno dei due termini fa 0 il prodotto farà 0 quindi quindi fate attenzione quando una funzione ha una derivata nulla l'immersa ci può stare ma in quel punto non sarà in un certo punto non sarà derivato perché direi alla nulla significa tangente orizzontale la funzione immersa ci avrà tangente verticale tangente verticale non è una funzione derivata se vi ricordate il significato geometrico della derivata ok andiamo però queste due queste due diciamo formule ce le lasciamo indicate andiamo a usarle per andare a calcolare le derivate delle funzioni immerse noi sappiamo che se ci sono le derivate delle funzioni immerse devono soddisfare le funzioni immerse allora poi proveremo che nei nostri casi ci sono sempre ma andiamo a vedere quanto fanno le derivate allora quali sono le funzioni immerse che quali sono le funzioni immerse di cui non abbiamo calcolato ancora le derivate per esempio la funzione f di x uguale logaritmo di x questa è la chi è la funzione immerse dell'esponenziale noi abbiamo la funzione esponenziale va da r in 0 in 0 più infinito e poi ho la funzione logaritmo che fa il percorso questo questa è la funzione che ha x associo e alla x questo lo diamo x la funzione immerse associo logaritmo chiaro? cioè se voi fate in poche parole se fate il logaritmo dell'esponenziale di x diviene x se fate l'esponenziale del logaritmo di y diviene x prodotto di composizione la funzione è una inversa dell'altra quindi viene la funzione di 3 se faccio prima l'esponenziale devo tornare x se faccio prima l'esponenziale e poi l'logalitmo devo tornare dove sopra ok? allora la derivata del logaritmo nel punto x chi è? andiamo a vedere qua la derivata della funzione in persa y stavolta l'ho chiamato x scambiato in o cosa devo fare? 1 fratto la derivata è la funzione diretta ma la funzione diretta era l'esponenziale la sua derivata è la funzione esponenziale di chi? qua ci devo mettere f a meno 1 calcolato in y nel mio caso f a meno 1 è la funzione del logaritmo perché i nomi stanno scambiando e invece di y ci devo mettere x sempre perché stanno scambiando ok? se andiamo ad applicare quello schema lì f dovete chiamarlo e alla x f a meno 1 è il logaritmo x f a meno 1 è il logaritmo x quindi qua devo fare 1 fratto la derivata dell'esponenziale che è l'esponenziale calcolato in logaritmo ma l'esponenziale di logaritmo x l'abbiamo appena visto vale x e quindi qua mi viene uno stesso quindi la derivata della funzione esponenziale fa 1 x quando facciamo questi conti facciamo qualche controllino ci ricordiamo il grafico della funzione del logaritmo se vi ricordate il grafico della funzione del logaritmo è questo qua diventa talmente vicino questa è la funzione del logaritmo ok allora vediamo un po' se torna se prendo il punto x uguale a 1 logaritmo di 1 vale 0 ma la sua derivata nel punto 1 vale 1 fratto 1 che fa 1 che vuol dire che qua la tangente deve avere il coefficiente angolare 1 cioè deve formare un angolo con l'asse delle ascisse di 40 cm ci troviamo più o meno sì poi che succede che mano a mano che vado avanti per esempio se x è uguale a 10 se x è molto grande diciamo siamo a 10 eccetera la derivata farà un decimo ma un decimo che significa che la tangente al grafico dovrà avere pendenza sempre positiva ma molto più bassa il coefficiente angolare farà un decimo ci troviamo sì se invece mi avvicino a 0 ma da destra perché d'altro canto il logaritmo è definito per x maggiore di 0 per esempio se sto a 0.1 diamo 0.2 se sto a 0.2 il coefficiente angolare quanto deve fare deve fare 5 e 1 fratto 0.2 fa 5 ci troviamo più o meno sì chiaro che il grafico è approssimativo però come vedete la funzione è sempre crescente il coefficiente angolare è sempre positivo della retta d'angente e effettivamente è molto grande vicino a 0 quando mi avvicino a 0 questo coefficiente angolare tende a più infinito perché la funzione tende a mettersi verticale infatti la derivata quando x tende a 0 da destra 1 su x che tende a 0 tende a più infinito infinito quindi perfettivamente ci troviamo e quindi abbiamo fatto la prima derivata di funzione di mezzo quindi andiamo ad aggiungere al nostro specchietto di derivate qui abbiamo la f qui ci mettiamo la f' e qui ci mettiamo la funzione logaritmo di x qua ci dobbiamo mettere x andiamo a vedere adesso voglio fare un'altra derivata andiamo a fare prendiamo x positivo e andiamo a definire la funzione x elevato ad alfa come si fa a definire x elevato ad alfa si può fare in tanti modi si può definire prima sugli interi poi sugli interi negativi prima sugli naturali poi sugli interi poi sugli razionali e poi passando al limite si può definire per ogni alfa si può fare anche in un modo più rapido questa qua per definizione oppure e l'esponenziale di alfa per il logaritmo di x ok? questo perché è logaritmo di x all'alfa se vogliamo mantenere le proprietà delle potenze deve fare alfa logaritmo di x allora una volta che ho fatto il logaritmo poi rifaccio l'esponenziale e devo ritornare quello che c'era prima e allora l'esponenziale di alfa logaritmo x deve fare x io però per non perdere tempo lo definisco così e sta quindi questa definizione rispetta sicuramente tutte le proprietà che mi aspetto da questa sicuramente coincide per esempio con la definizione usuale in tutti i casi che potete immaginare per alfa un numero naturale per alfa un numero intero per alfa un numero razionali soltanto che questa funziona quando alfa è un qualunque numero reale fate attenzione l'unica cosa se non fate restrizioni su alfa x lo dovete prendere così positivo perché per esempio uno dice ma se ci metto il cubo x può fare anche meno 3 perché posso fare meno 3 al cubo fa meno 27 e ma se ci metto radica al 2 meno 3 alla radica al 2 che significa? non significa niente che radica al 2 non è neanche un numero razionale allora le potenze con esponente qualunque le possiamo definire questo per esempio è il modo di definirlo ma sicuramente le possiamo definire per tutte le x che sono positive in alcuni casi quando abbiamo che l'esponente è un numero razionale con denominatore dispari allora si possono definire anche su numeri negativi perché la radice quadrata con di diciamo la radice cubica la radice quinta la radice quadrata diciamo l'elevamento a 1 su n con n dispari si può fare anche per n però lasciate perdere tutto questo voi ricordate che x positivo vale questo ok? allora se io ho f di x uguale a x alla alfa andiamo a fare chi è la derivata? beh da questa uguaglianza io posso fare la derivata con la regola di derivazione della funzione composta quindi chi è la derivata? devo fare la derivata dell'esponenziale che è l'esponenziale stesso in alfa logaritmo x per alfa per la derivata di logaritmo x che fa 1 su x ma questo chi è? è x alla alfa per alfa per 1 su x ma questo chi è? è alfa per x alla alfa meno 1 questo naturalmente per semplificare le cose supponiamo che alfa sia diverso da 0 in realtà la cosa in qualche modo funziona anche quando alfa è uguale a 0 perché se ci metto alfa è uguale a 0 x alla 0 lo definisco 1 infatti quando viene l'esponenziale di 0 fa sempre 1 e infatti la derivata di 1 è vero che qua viene x alla alfa meno 1 cioè 1 su x però ci viene 0 davanti quindi in qualche modo torna il fatto che la derivata di 1 è 0 allora senza complicare le cose semplici perché in quel caso ce lo possiamo trattare benissimo a parte perché la funzione costante la sappiamo già derivare allora supponiamo che alfa sia diverso così non ci sono casi banali o cose da distinguere ok? quindi cosa abbiamo scoperto che se io qua metto x alla alfa la sua derivata è alfa volte per x alla alfa meno 1 ma questo questa formula che ho trovato è contraddittoria rispetto a io sapevo già derivare x al cubo per esempio x al cubo la derivata x al cubo chi era? alfa era 3 e faceva 3x quadrati effettivamente tolto ma andiamo a vedere quindi se io ho per esempio f di x uguale alla radice quadrata di x f primo di x quanto fa? fa 1 su 2 alla radice di x per quale motivo? naturalmente qua x è maggiore di 0 vedete radice di x x alla 1 mezzo 1 mezzo per x alla meno vedete il fatto di aver preso x positivo elimina tanti problemi per esempio qua se ci metto x uguale a 0 la f primo non è definita infatti se vi ricordate il grafico della radice quadrata di x in 0 questo grafico ha una tangente verticale perché se vi ricordate x quadro aveva tangente orizzontale quando lo giro la tangente che vuol dire vuol dire che se andate a cercare di calcolare la derivata della radice quadrata in 0 la funzione non è derivabile perché il livello del rapporto incrementale va a più infinito a più infinito infatti qua se tu ti avvicini a 0 da destra la derivata tende a più infinito e se vi ricordate quando noi per parlare di soluzione derivabile abbiamo detto che la derivata o il limite del rapporto incrementale deve esistere finito non esiste non esiste che la derivata fa più infinito non è derivato è chiaro? ok benissimo andiamo adesso a prendere vediamo un po' se state capendo prendiamo la funzione radice di 1 più x quadro altro esempio chi è la derivata è 1 fratto radice di 1 più x quadro più x teoricamente sarebbe 1 fratto 2 radice di 1 più x quadro per la derivata di 1 più x quadro che fa 2x poi 2 e 2 perché questa è 1 più x quadro alla 1 mezzo quindi la derivata di 1 più x quadro entra nel meccanismo non è difficile bisogna capire che quando io sto derivando la funzione radice la sua derivata è 1 su 2 radice e la devo calcolare nell'alcolamento della radice cioè 1 più x quadro comunque qua ci mettiamo alpha diverso da z ok ok e quindi abbiamo allungato il nostro specchietto di funzione derivata andiamo a farne un'altra 2 o 3 andiamo a fare derivata le più prime mezze delle funzioni trigonometriche o adesso guardate che stiamo investendo del tempo nel fare quello vedete il tuo specchietto quello specchietto poi lo rivisiteremo per fare le formule di telo quindi estendere le informazioni contenute in quello specchietto quando abbiamo aggiunto un nuovo elemento nel nostro specchietto cercate di avere un approccio in medicina si dice olistico cioè integrale alla questione cioè nel momento in cui quando abbiamo visto la derivata del logaritmo va 1 su x abbiamo confrontato con il grafico e abbiamo visto che ci trovavamo che sappiamo il significato geometrico della derivata allora se voi fate questo cioè per ogni funzione vi andate a riesaminare la funzione derivata confrontandola col grafico della funzione che avete studiato nelle settimane passate vedete che vi trovate per esempio se f di x era x cubo la derivata faceva 3x 4 che vuol dire la funzione x cubo faceva così vuol dire che x cubo è una funzione dispari quindi cioè se io passo da x a meno x però la funzione cambia di segno la derivata è sempre positiva quindi vedete le tangenti sono sempre con il coefficiente anacolare positivo la derivata avrà una funzione pari cioè se faccio la derivata in questo punto se faccio la derivata in questo altro punto il coefficiente anacolare mi viene non solo c'è un solo punto in cui il coefficiente anacolare diviene 0 che vedremo poi non sarà un punto di massimo di minimo nonostante la derivata sia 0 ma sarà lo chiameremo a suo tempo un punto di flesso che vedete la funzione sale prima e poi sale anche dopo quindi comunque confrontando il grafico cioè con l'espressione della funzione derivata si vede che le cose funzionano perché questa funzione è tale che il coefficiente anacolare dell'elettra d'angente è sempre più alto mano a mano che x va avanti in effetti 3x quadro è sempre più alto mano a mano che x va avanti quando x va a più infinito la derivata va a più infinito infatti x tende a mettersi verticale in 0 invece la tangente la rinfruttata questo discorso lo dovete fare perché se no se vi affidate alla sola memoria prima o poi perderà perderete i pezzi invece se integrate la conoscenza che avete del grafico della funzione con la conoscenza dell'espressione dell'analitica della funzione così con l'espressione dell'analitica della funzione derivata allora confrontando le varie informazioni quando avete dei dubbi su una potete controllarla ricorrendo all'altra cioè quando avete dei dubbi sull'espressione dell'analitica per esempio della funzione derivata controllate con il grafico o quando avete dei dubbi con il grafico se vi ricordate la derivata vi può aiutare a l'espressione dell'analitica della funzione della sua derivata e vi possono aiutare a controllare il grafico ok adesso andiamo a fare le derivate delle funzioni immerse delle funzioni trigonomeriche allora se qua ho la funzione seno di x la funzione immessa abbiamo detto la funzione arcoseno di x la funzione che mi metto questo lo chiamo x la funzione immessa si chiama arcoseno di x e poi scambio il nome ecco questa è la funzione seno questa è la funzione arcoseno la funzione arcoseno il seno veniva invertito però ovviamente sull'intervallo dove poteva essere invertito la funzione arcoseno è definita tra meno 1 e 1 chiaro? da meno 1 e 1 ok va bene il grafico è venuto un po' male andiamo a vedere come in merità questa funzione non sarà derivabile da per tutti meno 1 e in 1 vedremo che non sarà derivabile allora chiamiamo f di x la funzione arcoseno di x allora chi è la sua derivata? f primo di x è 1 fratto se vi ricordate devo fare la derivata della funzione immersa ma la funzione immersa di arcoseno è seno la derivata di seno è coseno calcolata in arcoseno ricordate devo fare la derivata della vabbè questa nella formula che avevamo scritto qua è la funzione diretta e questa è la funzione immersa qua ci devo mettere coseno perché era la derivata della funzione immersa di questa quindi devo fare questa fare la funzione immersa che è si poi devo fare dalla sua derivata al cimente coseno in f meno 1 coseno ok il problema è vedere se possiamo arrivare ad un'espressione più semplice di questa cosa chi è il coseno di arcoseno di x abbiamo un'espressione più semplice di questa cosa sì e ce l'abbiamo perché chiamate arcoseno di x diciamo alfa che vuol dire che seno di alfa è uguale a x ma là che cosa c'è scritto? c'è scritto coseno di alfa ma se seno di alfa è uguale a x come si ricama il coseno di alfa? coseno di alfa è la radice di 1 meno x quadro col più o col meno ok? perché io so che coseno di alfa più seno di alfa fa sempre 1 questo fa x quadro lo porto dall'altra parte per ottenere il coseno di questa radice ora però qual è il discorso? il discorso è che alfa deve andare da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi allora noi sappiamo che il coseno tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi deve essere così positivo se ricordate il grafico è la funzione così tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi la funzione coseno di x è positiva quindi di queste due possibili radici quadri devo scegliere quella così vediamo se torna perché ho il controllo con il grafico quindi io sto dicendo che qua la mia derivata viene 1 fratto la radice di 1 meno x quadro allora vediamo in 0 1 fratto la radice di 1 fa 1 quindi vuol dire che questa tangente deve essere a 45 grafici e più o meno è vero se il grafico fosse fatto bene sarebbe vero poi la derivata è pari e tende a diventare più grande quanto via lontano dal 0 quindi per esempio se mi metto in un mezzo 1 meno un quarto fa 3 quarti la radice quadrata di 3 quarti fa radica 3 e mezzo il reciproco fa 2 sulla direzione quindi qua è un po' di più qua è la stessa qualità un po' di più però che succede che quando arrivo in 1 quando mi avvicino a 1 e questa quantità tende a 0 se mi avvicino a 1 da sinistra e il reciproco tende a più infinito in 0 la derivata 1 su 0 non c'è più non si può fare più infatti qua la tangente verticale per quale motivo che la funzione seno nei punti meno pi greco mezzi pi greco mezzi aveva dei punti di massimo e quindi la derivata della funzione diretta era 0 ma se la derivata della funzione diretta era 0 vuol dire tangente orizzontale quando la vado vado a fare la funzione immersa qui la tangente mi viene verticale quindi questa funzione arcoseno è effettivamente definita su tutto meno 1 1 è continua perché per esempio se io faccio il limite per x che tende a 1 da sinistra dell'arcoseno viene arcoseno di pi greco mezzi che fa 1 che è il valore dell'arcoseno diciamo che è quello corretto quello che deve venire ma non è derivabile nei punti meno 1 quindi qua la derivata esiste solo per x appartenente a meno 1 quindi questo è un caso in cui la nostra funzione immersa esiste come funzione continua su tutto l'intervallo meno 1 1 estremi compresi però la derivabilità non ce l'ha dappertutto ce l'ha tranne che sugli estremi perché sugli estremi la tangente al grado mi diventa verticale quindi se io qua ci metto arcoseno di x la sua derivata fa 1 fra la radice di 1 meno x quadro e se qua ci metto l'arcoseno di x io dico senza fare nessun conto che qua mi viene meno 1 fra la radice se vi ricordate posso rifare tutto allora potete rifare tutto il ragionamento come l'ho fatto io è un esercizio molto simile e questo siete in grado di farlo da solo se non siete in grado preoccupate io posso evitare di rifare l'esercizio per quale motivo perché se vi ricordate avevamo dimostrato che l'arcoseno di x l'arcoseno di x era pi greco mezzi meno l'arcoseno allora se questo è uguale a questa costante meno questo quando vado a derivare la derivata della costante mi fa 0 la derivata di meno arcoseno fa meno la radice se vi ricordate il grafico dell'arcoseno faceva così lo faccio qua sotto grafico l'arcoseno faceva così fa meno 1 ok? qua stavamo i greco mezzi qua stiamo a pi greco questa è la funzione l'arcoseno quindi vedete stavolta la funzione decresce sempre in 1 e in meno 1 la funzione non ha la derivata perché la tangente stavolta si mette verticale però corrispondente ha una funzione che è decrescente se vi fate tutti i conti vedete ovviamente ripeto vi consiglio di rifare l'esercizio analogo a come l'ho fatto io qua che ci dovete mettere arcoseno qua ci devo mettere meno 1 su seno che la derivata di coseno è meno seno meno 1 su seno di arcoseno di x ma chi è il seno dell'arcoseno di x? è la radice di 1 meno x quadro siccome siamo tra siccome stiamo tra 0 e pi greco tra 0 e pi greco il seno è positivo però c'è il meno davanti quindi è oppure detto però fatelo anche se sembra facile in questo momento fatelo se non lo fate non sbagliate se non sbagliate non correggete se non correggete non imparate ok quindi abbiamo fatto le derivate di arcoseno di arcoseno andiamo a fare la derivata dell'alto chi è la funzione arco tangente arco tangente mi ricordo che noi andavamo a invertire la tangente tra meno pi greco pi greco mezzi e pi greco mezzi e pi greco mezzi questa è la funzione tangente ma non sul tutto aere solo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi quindi scrivo qua tangente ristretta all'intervallo meno pi greco mezzi pi greco mezzi la funzione immensa è la funzione arco tangente andiamo la funzione arco tangente è fatta così se vi ricordate allora la derivata cosa devo fare 1 fratto il reciproco del la derivata della funzione tangente ma chi era la derivata della funzione tangente la derivata della tangente è 1 sul cos quadro calcolato dove però calcolato nel arco tangente di x ok quindi innanzitutto 1 fratto 1 fratto 1 sul cos quadro per l'arco tangente di x fa cos quadro dell'arco tangente adesso però ci poniamo di nuovo il problema ma è possibile trovare un'espressione più semplice certo che è possibile come al solito chiamate alfa l'arco tangente di x lo chiamo alfa in genere proprio perché è un albolo no no è compreso tra 1 fratto 1 fratto 1 fratto che vuol dire vuol dire che tangente di alfa fa x ma io cosa voglio voglio il cos quadro di alfa ma io che cosa so che tangente in quadro alfa fa x quadro se vado a fare 1 più tangente in quadro alfa questo mi fa 1 più sen quadro alfa su cos quadro alfa mi fa sempre x quadro fa sempre 1 più x quadro e questo faceva x quadro 1 più fa 1 più x quadro ma dall'altra parte fa 1 più questa roba qui quindi mi fa cos quadro più sen quadro che fa 1 su cos quadro alfa quindi 1 più x quadro è uguale a 1 su cos quadro alfa ma io cosa sto cercando non sto cercando 1 su cos quadro alfa sto cercando cos quadro alfa quindi cosa devo fare 1 fratto 1 più x quadro questo è il risultato cioè praticamente porto questo a destra e questo a destra e ho 1 naturalmente uno dice vabbè ma tu fai questi giochi di prestigio andiamo a vedere se è corrente vediamo se ci troviamo col grafico questo innanzitutto mi dice che questa derivata ci sta sempre ed è sempre maggiore di 0 questo mi dice che la mia funzione deve essere sempre in tutti i punti deve essere crescente effettivamente la mia funzione è sempre crescente non solo mi dice che in 0 la derivata deve fare 1 e quindi la tangente resta a 45 gradi e più o meno ci troviamo non solo dici che più mi allontano da 0 la funzione continua a crescere ma sempre più lentamente infatti se io mi fado lontano da 0 la derivata è pari però l'officine entangolare è sempre più piccolo quanto più mi allontano dalla origine addirittura quando x tende a più infinito la derivata tende a 0 è normale questo? sì perché la mia funzione ha limite allora vedremo che quando ha limite se c'è il limite della derivata il limite della derivata deve fare 0 se c'è un asintoto orizzontale e la funzione ha la derivata al limite allora il limite della derivata deve fare 0 la linea della derivata non può fare 1 perché altrimenti vedremo ci sarà un asintoto obliquo non l'inizio forse è un asintoto non necessario ok e quindi possiamo aggiungere al nostro specchietto anche questa funzione arco tangente la derivata a 4 quindi sorprendentemente adesso facciamo pausa però prima di fare pausa fatemi fare un po' l'olipido allora siamo andati a calcolare le derivate di queste funzioni sorprendentemente abbiamo trovato delle espressioni abbastanza semplici non solo abbastanza semplici soprattutto nel caso dell'arco tangente no? la derivata all'arco tangente non ci sta di mezzo nessuna funzione il tricolo medio è 1 raggiunto anche qua le derivate non riguardano affatto le funzioni di tricolo medio ma sono la derivata diciamo sono delle funzioni ottenute tramite polinomio funzioni relazionali radigate ok va bene pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti